www.marizopoli.it, 10 secondi, sì, 10 secondi il tempo che deve arrivare, secondo il nuovo regolamento approvato dal Parlamento Europeo, per la gestione dei bonifici. Sì, il bonifico entro 10 secondi. Stante le note del regolamento appena approvato, per quanto riguarda i cittadini e le piccole e medie imprese, sicuramente, avere indipendentemente le banche e i prestatori servizi, dovranno garantire, indipendentemente, come dicevo, dal giorno e dall'ora, l'esecuzione dell'ordine di bonifico entro 10 secondi. Quindi, efficienza nel trasferimento del denaro, 10 secondi, e per quanto riguarda anche la sicurezza del trasferimento del denaro stesso, quindi in tutta la comunità europea. E il cliente riceverà il denaro entro 10 secondi e riceverà anche l'avviso, entro 10 secondi, che è stato eseguito il bonifico. Quindi, buon bonifico a tutti in 10 secondi. Alla prossima!